Salve, io sono GameTime e oggi siamo su Hello Neighbor 2 Alpha 1 L'ho rilasciata da pochissimo e ve la sto portando come primo in Italia Oggi pomedio farò uscire sicuramente un video su questa Alpha Se vedo che vi piacerà entro martedì vi porterò il secondo video dove andremo a scoprire tutti i segreti di questa Alpha in caso non riusciamo a farlo oggi Ma cosa starà facendo? Proviamo ad entrare Salve Ci ha già pisciato a terra qualcuno qui, perfetto Il porco, ma me lo frego Allora, vediamo No Ah, ma io qui c'ho della roba No No, no, metti qua, metti Metti tutto qua, quello che ho preso Ce ne possiamo piazzare una videocamera a casa sua e vedere cosa fa? Sì, sì, vabbè, niente, non si può Prova a metterla qua Vediamo No Ma mi introduco Cos'è sto posto? È una doccia? Minchia sembrava di essere in paradiso È ancora privo di tanti su... Ok, è un'altra videocamera, buono Questo cos'è? Ma, aia, no Ma c'è delle difese lui Gli fa male Aspetta, qua mi frego La tua videocamera No, è un telefono Secondo me con questo telefono ci dobbiamo far qualcosa Ma poi come cammino... Ma questo non è il vicino, eh Questo è il nuovo Aiuto 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 Mi trascina manco fosse un pedo No, eh Ah, ma lui mi lascia fuori dalla casa... Da casa sua e basta Non è un gioco... No Ma gliela... Gliela tiro No, ma mi rilancio fuori dalla finestra L'ho ammazzato! No! Ok No, ma tamma... Sì! Non mi... Non mi piglia, non mi piglia, non mi piglia Non so dove sono Si è bloccato! Allora io vado libero, toh Sì, va bene Credo che forse devo mettermi a cercare qualcosa Perché... Stordisce, no? Tutte le volte Vediamo se... Oh! Ce n'era uno mi sa anche di qua Non me lo ricordo Però ora sicuramente non... Ci dovrebbe più schiantare le scatole Questa credo di doverla mettere qui Hai visto? E forse bollendo succede qualcosa E' successo! C'è la penna bollente che succede? Mi sa che non me la fa tenere, sai? Dov'è? E' morto! Vado, 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 vado No, ma qua... Ora è chi... Ah, no, si apre Che posto! C'è una chiave? Ho preso la chiave Ok, ho preso la chiave Gialla Qua non ci posso andare Ma qui c'è un computer Se la metto qua va giù? Non lo so Ma non mi piglio tutto To Eh, che è? Cinque Ma che sta arrivando? Sta arrivando! Via, fuori Fuori, 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 fuori Allora mi devo ricordare bene dove serve questa chiave dopo Ma intanto me la posiziono qua Poi volevo provare sopra a mettere... Così si butta la pattumiera Bravo Con stile Via Via, 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 via Ma che... Via, via, via Cosa c'è? Uh, una torcia. Qua c'è una stanza, con dei disegni. Delle scarpe. Ah, è sempre quella di prima. Ok, qua c'è sempre questo coso. Eh no. Ma che cacchio sta a fa'? Ah, direi che sei leggermente buggato. Secondo me si può in qualche maniera. Ci deve essere una scala a qualcosa che mi ci porta. Dai. Oh, cavolo. Cioè abbiamo fatto... Ah, mi posso nascondere dentro i cestini, buono. Qua dentro c'è qualcosa, una videocamera. Ok. Qua dentro c'è sempre il coso dell'estintore, però è sempre vuoto. E qui? Lo posso far bruciare! Control, dai che non mi piglia. Il filo di prima lo devo portare qua sopra. Ha spento il fuoco! Credo che questo sia un segno, eh. La chiave! Ecco cosa. Ho preso tutto? Ok. Adesso devo cercare il modo di uscire. Penso che da qui vada bene. Poi scappo. Prima che mi arriva quello e mi fa lasciare tutto, la mia roba. Ok, sto qua dentro. Ma è venuto fin qui? Che sta facendo? Oddio, che stuntman. No! La pattumiera della salvezza. Allora qua. Ok, c'è la chiave, no? Poi io dovrei salire qua su. Ok. E il tizio, mi ricordo che andava da una parte simile a... No, di qua no. Mi sa che era qua davanti. Non vorrei sbagliarmi. Sì, credo di sì. Aveva detto che tipo qua c'era qualcosa. No! No! Sì. Aspetta che forse ho capito che si può fare qua. Olè. Allora, la chiave qua me l'ha droppata. Però non ci stanno problemi. Perché? Dovrei aprire qua io. Se questo video vi è piaciuto lasciare un commento, mi piace, iscrivetevi alla chiave e attivate la campanella per non perdervi tutti i prossimi video. Nei prossimi giorni forse vi farò uscire la seconda parte dove scopriremo anche il finale segreto e da game time purtroppo vai per adesso.